allora sono le 7 e 56 la città è vuota e faccio una delle cose che mi piace sempre fare cioè andare a vedere olalbo il tramonto in una città nuova il tramonto qui è brutto perché il sole tramonta dietro una montagna invece a este dovrei vedere proprio il sole che sorge dal mare sul mare dal mare adesso andiamo in spiaggia allora colazione tipica brioche al cioccolato il caffè si dice o espresso o caffè corto in realtà è una piscina però questo albero bianco è pazzesco non so cosa sia allora ho fatto check out in in ostello adesso si va a vedere il centro culturale e il quartiere il quartiere soho che è stato ristrutturato prima era in stato di abbandono e adesso invece è pieno di street art centro multiculturale allora qui la plaza de toros che dove fanno eventi musicali e corride ho letto che vabbè la corrida è nella tradizione spagnola e questo lo sapevamo già ma che l'andalusia è particolarmente attenta a questa tradizione c'è un museo che è visitabile io per scelta non visito mai le plaza del toros perché non voglio sostenere il sistema e niente credo ci sia anche una visita guidata sono stato due orette abbondanti in spiaggia a prendere il sole a dormire adesso vado a mangiare qualcosa e poi cerco di fare shopping mia sorella mi è incaricato di trovare un qualche culare o un maglione o qualcosa colorato per mia mamma quindi adesso si va a far shopping una cosa bella di una città è quando la stai per salutare ma continui a trovare cose belle che non avevi ancora visto ma che spettacolo la cattedrale allora sono riuscito a fare regalo sia a mia mamma che a mia sorella e poi c'è sto palazzo che è stupendo grazie a tutti 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 Grazie a tutti.